Siamo adatto Gesù Cristo. Abbiamo un avvertimento di Gesù nel Vangelo di oggi che corrisponde al tempo liturgico che noi stiamo vivendo e proprio del tempo chiede conto ai suoi contemporanei e penso chiede conto anche a noi. Voi che sapete fare previsioni meteorologiche, dice i suoi, contemporanei, voi che sapete dunque capire il tempo fisico, il tempo meteorologico, il tempo della natura, perché questo tempo non lo sapete distinguere, discernere? Perché non capite o non volete capire, perché li chiamo ipocriti, non volete capire che cosa sta accadendo. Gesù sta parlando della sua presenza come figlio di Dio e dunque della realizzazione del tempo profetizzato dai profeti della Messia sulla terra, del Regno di Dio che si fa vicino al suo popolo e dunque per mezzo del suo popolo all'umanità intera. Il rifiuto, l'ostinato rifiuto di Cristo e quindi dell'inviato del Padre, perché il suo regno si realizzi sulla terra nei cuori degli uomini, questo viene rifiutato, questa testardagine continua e Gesù le ammonisce. Le ammonisce dicendo, guardate bene che state andando verso un giudizio, un rendiconto. Il rendiconto di chi, anziché pensare di rendere ragione delle proprie opere a Dio, perché al cielo siamo destinati, il Regno di Dio si avvicina per dare la possibilità di entrarci. Ebbene voi, mentre questa cosa sta avvenendo fra di voi per la prima volta nella storia dell'umanità, ma voi non potete essere ignari perché i profeti ve l'hanno detto, ebbene voi siete tutti dediti ai vostri affari, alle vostre veghe, al vostro possesso sulle cose, la verità, a questa idolatria insaziabile che è la ricchezza, il potere, il dominio delle cose sulla terra. E mentre litigate fra voi, non vi accorgete che state andando incontro a un giudizio, un giudizio che sorpassa le vostre intenzioni e veghe personali, ma è un giudizio sulla qualità del vostro operato, sulla vostra richiesta di sete, fame e della giustizia, del Regno di Dio e di quanto bene avete fatto fra di voi. Dovrete rendere conto, al termine del vostro viaggio su questa terra, di tutte le liti che avete intentato, di tutti i soprusi, di tutte le eudità, di tutte le ingiustizie, di tutto quello che avete fatto pur conoscendo la qualità della vostra posizione davanti a Dio in quanto popolo eletto. A noi dovrebbe dire, voi sapete tutto e in quanto battezzati, cristiani, cattolici, dovreste conoscere tutto questo eppure anche voi, anche voi. Siete tutti dediti alla vita della terra, siete dediti alla confusione, al conflitto e date incontro a un'autodistruzione. quello che voi non volete capire, questo è il messaggio di Gesù, che la questione non è solamente di sopravvivenza o di dominio o di pace sulla terra, ma della pace nei vostri cuori per avere pace sulla terra. E di questa mancanza di pace per il rifiuto vero, sostanziale, del regno di Dio nei vostri cuori, di questo voi renderete conto dopo. E non ci sarà più tempo. Verrete messi nel carcere e di là non ne uscirete, fino a che non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo. Questo è il grande monumento di Gesù. Anche noi cristiani, cattolici, siamo molto attenti dunque a quello che ci riguarda materialmente, siamo terrorizzati da epidemie, guerre, ristrettezze economiche, spettro di freddo, forse di fame, ma non alziamo gli occhi al cielo. Non dico semplicemente per chiedere aiuto a Dio, il quale ce lo può dare, ma per convertire i nostri cuori a Lui. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Dunque questo tempo è un tempo in cui noi stiamo correndo velocemente davanti al giudizio di Dio. Un tempo in cui chi può faccia esame di coscienza, si batte il petto e chieda perdono per sé, ma chieda perdono anche per gli altri, per coloro che non riescono a farlo, non sanno farlo, non vogliono farlo. Noi dobbiamo presentare noi stessi e i nostri fratelli al cospetto di Dio dicendo sì, siamo peccatori, non meritevoli di misericordia, perché la misericordia non è un merito, è tantomeno un diritto. La misericordia è un dono che tu o padre ci puoi fare e se fino ad ora ti abbiamo ignorato, fino adesso abbiamo tirato dritto per le nostre strade senza badare a quello che è la vita secondo lo spirito di pace che è immessa nei nostri cuori mediante il Cristo. Di questo ti chiediamo perdono. Fa che la pace entri nei nostri cuori e la pace possa diffondersi sulla terra per dare quello spazio, quel respiro, per poter conoscere e amare te sopra ogni cosa. Dio vi benedica.